occuperemo tutto il ciclo cerchio firenze 77 attraverso roberto setti scuola del cerchio firenze 77 6 novembre 1975 essere e divenire a cura di vb dali certamente voi questa sera avete posto degli interrogativi è chiaro che man mano che proseguiamo nell'illustrazione di questo quadro generale nella rappresentazione della realtà gli interrogativi che voi ponete non possono essere soddisfatti con poche parole così quello che voi vi siete chiesti questa sera se veramente deve avere una risposta esauriente che possa in qualche modo illustrare e precisare in modo efficace nei dettagli questa rappresentazione della realtà ha bisogno di molti approfondimenti possiamo dire senza errare che per rispondere in modo esauriente ai vostri interrogativi di questa sera occuperemo tutto il ciclo di riunioni che sta dinanzi a noi e a voi è necessario a questo punto precisare che cosa significa realtà assoluta realtà relativa se la realtà relativa è o può essere oggettiva oppure è unicamente soggettiva se l'uomo il microcosmo può comprendere la realtà assoluta e in che misura se e che cosa significa che l'uomo si identifica in dio o che cosa significa l'identificazione in dio a tutte queste domande noi abbiamo già risposto in modo sommario con sì e con no ma nell'approfondimento di questi argomenti sta un significato che al momento non vi appare vedete anche questa sera voi avete denunciato l'abitudine che avete nel mondo nel quale vivete momentaneamente in consapevolezza voi misurate la vostra futura esistenza dico futura naturalmente per voi e questo lo avete capito con il metro secondo il quale misurate l'attuale una delle cose importantissime che sono state dette nell'ultimo ciclo di riunioni è proprio quella che questa sera avete riletto il mondo del sentire dovete fare uno sforzo per comprendere la realtà per voi futura ma che è già come ogni cosa è una realtà del tutto diversa dalla vostra attuale e sforzarsi per cercare di comprenderla secondo ripeto il metro che voi adoperate per comprendere la vostra attuale realtà è un errore è una di quelle cose che vi intralciano la vera comprensione guardate quante volte abbiamo detto che l'io non esiste ma che cosa significa voi vivete ogni istante e nell'istante stesso in cui voi percepite qualcosa questo istante è già stato trascorso come detto dal pensiero filosofico antico ecco supponiamo adesso che voi pensiate al vostro passato voi dite io ho fatto questo ma che cos'è che vi dà l'idea dell'io è unicamente la memoria voi non siete ciò che siete stati seguitemi ogni istante voi siete e noi siamo diversi ciò che crea questa continuità questo io questa individualità questa personalità non è che è il ricordo la memoria se per cercare di comprendere noi ci sforziamo di abolire la memoria che cosa accade voi siete ugualmente attimo per attimo un insieme di sensazioni di pensieri di desideri ebbene quelli siete voi attimo per attimo ciò che lega insieme tutti questi pensieri questi desideri non è che il ricordo ma questo ricordo è una cosa fittizia è uno strumento che serve per raggiungere un determinato fine null'altro quando il fine è raggiunto il ricordo diviene inutile quel mezzo quello strumento viene abbandonato così se voi vi sforzate di comprendere ciò che io mi sforzo di farvi capire giungerete meglio a inquadrare che cosa intendiamo per sentire per essere in effetti ciascuno di noi è quel sentire è quell'essere il ricordo ancora lo ripeto appartiene una fase dell'esistenza dell'individuo ma se voi perdeste la memoria il ricordo di cosa siete di cosa avete voi sareste ugualmente perché quello che conta è il presente quell'attimo in cui voi percepite e osservando l'esistenza che noi chiamiamo futura vediamo che quell'attimo che conta non è più un attimo di percezione ma è un attimo di sentire un sentire che esiste in sé e per sé al di fuori di ogni stimolo qual è lo scopo ultimo della vita dell'uomo come il fanciullo che quando non ha imparato a camminare da solo viene sostenuto da qualcuno non voglio qui portare l'immagine retorica della madre ebbene la mente i desideri i pensieri non sono che questi sostegni che tengono in vita un sentire ma quando andiamo ad esaminare un sentire più complesso più sviluppato questi sostegni non hanno più ragione d'essere non esistono più il sentire è libero da ogni mezzo che lo fa vibrare così libero dal ricordo libero da tutto quello che crea il vostro io e direte voi ma da dove nasce questo sentire non nasce da alcuna cosa ecco il vostro errore l'errore di riportare per comprendere quella fase di esistenza al vostro attuale modo di vivere non occorrono stimoli il sentire è essere e conoscenza in sé che in quella fase di esistenza vibra spontaneamente naturalmente è così e nel ciclo delle nostre riunioni future vedremo che certi termini che abbiamo adoperato per farci intendere da voi quali ad esempio scintilla divina non sono stati che degli artifici dei mezzi dei sussidi per quei momenti per la comprensione di allora vedremo come questi termini appariranno sotto una luce del tutto diversa certo non è essenziale per la vita che dovete condurre per il vostro attuale sperimentare conoscere queste cose chi non arriva a comprenderle può farne benissimo a meno ma chi ha la possibilità di capirle ha il dovere di farlo perché per lui il tempo è venuto non deve più ritardare indugiare attendere attendere che cosa ciò che sta davanti a lui deve essere affrontato ora subito non è che affrontandolo scomparirà potrà essere evitato giammai voi ritardando non fate che ritardare il passaggio obbligato da quel punto e allora chi ha la possibilità di capire deve averne anche la voglia perché ciò significa rendere fruttuosa la propria esistenza